Il Pescara stringe per il ritorno di Mirko Pigliacelli, oggi vertice in città tra Sebastiani e Danilo Caravello, agente del portiere in forza al Craiova Club della massima serie rumena, cui l'estremo difensore romano è vincolato sino al 30 giugno 2023. L'obiettivo è trovare la quadra sull'ingaggio. Il Pescara sembra intenzionato ad offrire un quadriennale, poi però bisognerà convincere il club rumeno che tre anni fa ha tirato fuori 400 mila euro per acquistarlo dalla Provercelli, si lavorerà sul prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B del Delfino oppure sull'ingaggio a titolo definitivo con pagamento dilazionato. Le alternative, lo svincolato di Gennaro classe 93, scuola Inter che a Uteri ha già allenato due stagioni orsono a Catanzaro, Dini classe 96 di proprietà del Parma, ultimo campionato di C tra Avellino e Padova, il pescarese Alessandro Iacobucci, classe 91, cresciuto nell'angolana, ultimo triennio al Frosinone, attualmente svincolato, fatta per gli ozzi al Como, Gori vicinissimo al Cosenza. Il Pescara vuole dare a Gaetano Auteri un'altra punta centrale, torna così d'attualità il nome di Federico Melchiorri. Lo scorso anno ad un passo il bomber di Treia ha lasciato un ottimo ricordo in riva all'Adriatico, non solo per la qualità e il rendimento, 14 gol nella stagione 2014-2015, ma anche per lo spessore umano. Melchiorri, classe 1987, in uscita dal Perugia, a cui è legato da altri due anni di contratto, per il momento è un'idea, ma il contatto con i due agenti, Simone Settembri e Matteo Rossetti, c'è già stato. In uscita, ufficializzati i prestiti secchi di Borrelli al Monopoli e Belloni al Limolese, saltato almeno per il momento il trasferimento di Di Graz al Foggia Club d'accordo da tempo. Manca l'intesa però sull'ingaggio tra la gente del classe 96 e la società rossonera. In Coppa Italia, primo turno sabato 21 agosto con l'olbia dell'ex Andrea Cocco all'Adriatico, turno a eliminazione diretta. Sabato prossimo, ore 18, testa amichevole al Mariani Pavone di Pineto contro l'11 dell'ex Marco Pomante, che da giocatore a Nocera ha centrato la promozione in B con Auteri allenatore nel 2010-2011. L'esordio in campionato nel weekend tra il 27 e il 30 agosto prossimi, in casa contro l'Ancona Matelica dell'ex Del Sole e del pescarese Alessandro Di Renzo, terzino sinistro, classe 2000, ex Francavilla. Grazie a tutti.